L'amministrazione comunale di Agropoli punta a stupire con le iniziative per il Natale 2019. Infatti il Comune ha diversi progetti pronti per questo Natale. In primis è stato approvato un appalto per l'allestimento delle luminarie e l'amministrazione è pronta ad investire una somma pari a 40.000 euro circa. Verranno illuminati il centro città, il castello, le chiese, la casa comunale, Piazza della Repubblica, i Giardini Nassiria, Piazza della Mercanzia, Via Piodecimo, Via Piave, Via Alcide dei Gasperi, Via Risorgimento, Via Taverne, Via Salvo d'Acquisto, Via Benedetto Croce, Via Colombo, Via Petrarca, Via Amendola, il Lungomare San Marco e le Rotonde. Anche quest'anno purtroppo le illuminazioni non arriveranno nel centro storico. Inoltre il Comune, come lo scorso anno, ha riapprovato il progetto Castello Incantato, evento che trasforma il Castello Angioino Aragonese in un parco tematico per far vivere a grandi e piccoli la magia del Natale, attraverso uno spazio allestito che riprende le tradizioni natalizie e la condivisione dello spirito natalizio. La realizzazione del progetto sarà affidata all'Associazione Ercula Eventi e Turismo. C'è anche una novità, infatti l'amministrazione ha approvato la proposta dell'Associazione Sbandieratori dei Feudi del Cilento, che realizzerà il progetto Agropoli Mi Illumino di Natale, il quale consiste nella realizzazione di eventi e di un percorso enogastronomico con l'allestimento di casette in legno, che andrà dal centro fino al castello.